Una mattinata dedicata alla lettura ma anche un momento di svago per i bambini ricoverati all'ospedale Luigi Curto di Polla che hanno vissuto attimi di gioia in compagnia di mamma e di babbo Natale e quanto ha previsto la bella iniziativa messa in campo a Polla nell'ambito del progetto Polla Città che Legge del Centro per il Libro e la Lettura. Aprire la biblioteca e portarla fuori dagli uffici, in strada, in ospedale, in piazza per capovolgere il punto di vista usuale del cittadino e riconoscere il libro e la lettura come pratiche quotidiane. Così si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Polla che legge in un post in cui viene spiegato il senso dell'iniziativa che si è svolta ieri mattina e che ha portato la lettura presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Polla con due ospiti speciali, mamma e babbo Natale, che hanno alietato i bambini ricoverati. Un evento molto apprezzato che ha regalato tante emozioni ai bambini, ha portato un sorriso anche sui volti degli operatori sanitari e reso felici pure i genitori, inteneriti e calorosi. Grazie alla guida del primario di pediatria Teodoro Stoduto e all'organizzazione della caposala Sonia Melillo, si legge ancora nel post, i nostri mamma e babbo Natale, Samantha Elisio e Nico Piccolo, accompagnati da Giovanni Corleto, delegato alla cultura del comune di Polla, hanno incontrato i bambini dedicando loro nella sala della ludoteca la lettura di favole, racconti e aneddoti su babbo Natale, Elfi, Renne e mamma Natale. Una bella mattinata dunque per i piccoli pazienti del reparto di pediatria del Curto, un gesto simbolico e non esaustivo su quello che la lettura e i libri possono improvvisamente generare anche in una sala di ospedale. Grazie a tutti.